Tu sei Tommy Price? Sì. Io sono Ralph Thorson, i miei amici mi chiamano papà, ma tu chiamami Mr. Thorson. Ti ammazzano! Ma guarda che si deve vedere. Un vecchio sceriffo è una specie di cacciatore d'Italia. La vita è la stessa, i buoni da una parte e i cattivi d'ora. Se il vostro Anthony non si fa vivo entro 18 giorni, io ci rimetto 100.000 dollari. Un cattivone. Vedrai che sarà quasi felice di vederti. Voi parlate e diventate amici. Se è così facile, facci tu a riprenderti. Ti sto tenendo d'occhio il torso. Io ti ammazzerò. Mr. Thorson, un cacciatore di cauzioni. Lo sceriffo vuole vederla. Senta, sceriffo, ho fatto più di 2000 chilometri. Arrivederci, Mr. Thorson. Senta, sceriffo. Steve McQueen is the Hunter Steve McQueen